Ciao ragazzi e ben ritrovati qua sul podcast La Cultura del Benessere. Oggi abbiamo qua con noi Ruggero che ci parlerà di diversi argomenti molto molto interessanti tra cui plastica e microplastiche. Ciao Ruggero e benvenuto qua alla Cultura del Benessere. Ciao, grazie mille per l'invito. Gli argomenti sono interessanti, spero di riuscire a esserlo anch'io. Sì, 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 sicuramente, non ho dubbi. Beh, allora, prima di iniziare spiegaci un po' chi sei, che cosa fai. Infatti, una piccola presentazione. Certo, allora, appunto, mi chiamo Ruggero Rollini, io di mestiere faccio il comunicatore della scienza. Da, non so più se 4 o 5 anni, mi sto rimuovendo il trauma o vivo le gioie della partita IVA. Spero si sentano le virgolette sulle gioie, no, però vabbè, a parte quello, in realtà il lavoro sta andando bene. Io ho iniziato a fare divulgazione sui social, di formazione sono, ho una triennale in chimica. E poi il mondo della comunicazione e della scienza mi ha calappiato ed è quello che ho approfondito accademicamente ed è il mio lavoro barra passione da tanto tempo ormai. La fregatura, no, quando dicono fai ciò che ami e non lavorerai un giorno, è attribuita a Confugio. Non so se sia davvero di Confugio perché non l'ho mai approfondito. Andrebbe preso a sberne una persona che dice delle cose del genere. D'accordo. Anzi, fai ciò che ami e non avrai un momento libero. Inizia a lavorare della tua passione e poi perdi la passione. Ah, quello è l'altro, è l'altro grosso, è l'altro grosso rischio. Quello è obiettivamente l'altro grosso rischio perché poi devi fare anche magari cose che ti stimolano un pochettino di meno, ma devi farle per... Come le fatture. Per pagare, esatto. Il tempo passato in burocrazia è una cosa, è una cosa vergognosa. Eh già, eh già. E quindi dicevi che sei di Bologna e nel pratico come si svolge il tuo lavoro? Allora, sì, adesso vivo a Bologna, ho girato, ho girato un po', nel senso io di origine, sono piemontese. Non si sente tantissimo perché essendo del nuovarese in realtà abbiamo un'influenza molto forte lombarda. Infatti tutti gli accenti sono sbagliati a modello lombardo o non a modello torinese. E guarda, ad oggi il grosso mestiere arriva dai social. Quindi veramente la, 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 una buona, la, se vuoi la, la metà, parlavamo di partita IVA, la metà del fatturato arriva essenzialmente dalle attività sui, sui social. E poi c'è una grossa componente che mi piace tantissimo di lavori dal vivo. Quindi tante conferenze, tanti eventi che è proprio, io la trovo la più stimolante, quella in cui anche la divulgazione arriva meglio. Magari a meno persone perché chiaramente dal vivo 100-200 è già un risultato comunque significativo. Sui social 100-200 è la volta buona che decido di chiudere tutto. Sì, direi di sì. E sai che io ti ho conosciuto da un video che probabilmente ti è andato virale su come si fa la mocca. Non deve stare ad altissime temperature, non deve stare con la fiamma alta, la mocca non bolle. Non devi fare la montagnetta, quello è stato un disastro. Lì, la termodinamica della caffettiera. Io mi sono preso un po' di insulti, mi sono preso veramente un pochettino di insulti. Vabbè, ma è una naturale delle conseguenze quando vai un pochettino virale. Lì raccontare che l'acqua non bolle ma è il vapore che si genera e l'aria che c'è sopra. Quindi io lì nel video, nel reel, dicevo che era solo l'aria sopra, devi stare in un minuto e mezzo. In realtà devi aggiungere anche la tensione di vapore, chiaramente, del liquido. Ti risale su, non devi fare la montagnetta perché altrimenti comprimi troppo il caffè, rovini l'estrazione perché allunghi i tempi, allungando i tempi, tiri fuori anche sostanze più amare. Una volta che ti sale, arriva la fase vulcanica, vuol dire che l'acqua sta bollendo, ma se sta bollendo i vapori possono anche superare i 100 gradi. Quindi tiri fuori anche altre sostanze dannose, l'estrazione migliore mi sembra che vada tra i 70-100 gradi. Poi ci sono persone appassionate di caffè che sono proprio maniacali nelle temperature di estrazione. Poi una volta che ti sale, se te lo fai per te va bene così. Se hai già la caffettiera da 3, 4, 5 persone, dai una mescolata perché chiaramente prima ti esce il caffè un pochettino più freddo perché si è raffreddato, ha passato i chicchi. Poi ti esce quello più caldo, si crea un'inversione termica perché se hai freddo sotto e il caldo sotto... Sì, sì, fai gli strati. Fai gli strati e quindi devi dare una mescolatina con un cucchiaino e teoricamente hai il miglior caffè possibile con la mocca. Quindi diciamo quali sono quei fattori chiave per fare un caffè qualitativo con la mocca? Tempo, nel senso che ci vuole un fuoco medio-medio-basso, se uno ha fretta non si fa il caffè con la mocca. Chiaramente chi ha la capacità di riconoscere il buon sapore riconosce proprio il chico e cioè quelli bravi vanno a recuperare il caffè che dicono loro, lo fanno della finezza che dicono loro, se lo macitano loro io prendo un caffè. Invece è normale, non fai la montagnetta, te lo butti lì, aspetti e speri anche in alcuni casi. Ah, quindi l'acqua non deve superare la valvola. Non va pressato? Non va pressato. Quello della mocca non va pressato. Quello invece dell'espresso, cioè la compressione, ma è tutto un altro tipo di estrazione. È più denso, è più denso. Passa meno acqua, ha meno caffeina? Non sapevo che avesse meno caffè, può essere. Cioè tendenzialmente più acqua riesce a passare dai chicchi e più riescono a estrarlo. Quindi paradossalmente il caffè più è allungato, più è alto, più tendenzialmente dovrebbe avere caffeina. Sì, 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 sì. Quindi questi sono i fattori per fare un caffè di buona qualità a casa. Ma partiamo con la primissima domanda per capire un po' tutto il tema di questo podcast. Si parli di quel bias cognitivo che, diciamo, le persone sono portate a pensare che tutto quello che è naturale, tutto quello che è biologico, tutto quello che viene dalla natura faccia bene e quando c'è la parola chimico, automaticamente è qualcosa creato dall'uomo artificiale che quindi sia un danno per noi. Guarda, è la mia fissa questa roba qui. Nel senso che è l'unica cosa su cui ho anche un qualcosa di vagamente accademico come pubblicazione. Allora, partiamo proprio dal bias. In realtà è un'euristica, se volessimo spingerci proprio nella psicologia, però ci intendiamo, nel senso, ci intendiamo a prendere ciò che percepiamo come naturale come migliore. Si chiama Naturalis Better Euristic ed è una scorciatoia mentale che adottiamo un po' tutti per prendere decisioni. Chiaramente non saprei dirti in questo momento e non so se sia stato studiato se è un qualcosa di innato, quindi ce l'abbiamo tutti alla nascita, se è qualcosa di culturalmente costruito e socialmente costruito. Sta di fatto che c'è, quindi nel lato di prendere decisioni, se qualcosa ci appare naturale, ci sembra migliore. Capita anche a me al supermercato, è quando vedi la bella confezione verde color cartone, solitamente così, 100% naturale, sei portato a dire, ah, questo mi fa meglio. Anche McDonald's ha cambiato il logo, le strutture, tutto sul verde, sì, 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 ma lo percepisci come migliore, più sano, più salubre. Poi appunto, quando sono al supermercato mi rendo conto che il mio diploma di laurea sta prendendo fuoco quando mi accingo all'acquisto e allora uno si ferma e riflette, però è proprio una scorciatoia mentale che ci porta a prendere queste decisioni. Nel mio lavoro è una delle basi, questa Naturalism Better Euristic, che porta alla chemofobia. C'è questa paura irrazionale che abbiamo delle sostanze chimiche, pensa che hanno fatto un sondaggio su otto paesi europei, un gruppo di Zurigo, Italia compresa, e salta fuori che il 39% degli europei afferma di voler vivere in un mondo senza sostanze chimiche, che... Potrebbe essere un problema. Sì, vagamente, vogliono vivere sotto vuoto spinto. Poi vabbè, uno scava, si rende conto che c'è chiaramente un sottointeso, ed è anche semplice intuirlo, non dicono davvero di voler vivere in un mondo senza acqua, senza azoto, senza sostanze chimiche. Vorrebbero vivere in un mondo senza sostanze chimiche sintetiche. E' lì che sta, c'è proprio un sottointeso. E comunque, senza sostanze chimiche di sintesi, si torna indietro di un 200 anni a livello di sviluppo, perché salutiamo elettrodomestici, salutiamo prodotti elettronici, salutiamo i farmaci. Ma questo è un bel problema, perché molte volte le persone non si rendono conto del benessere che noi abbiamo creato nel tempo e di quanto in realtà questo benessere sia di fatto, nella maggior parte dei casi, sicuro. Cioè, comunque, prima di tirar fuori qualcosa in commercio, c'è un test, c'è tutta una sicurezza anche a livello alimentare, tecnologico, cioè, quindi non è così che uno inventa la cosa, la mette nel mercato e finisce lì. Cioè, c'è tutta una procedura molto, molto precisa da dover utilizzare. Sì, assolutamente. Io trovo che un po' di titubanza sia sana, nel senso che se uno va a indagare quando potrebbe essere nata questa chemofobia, scopre che in realtà non è del tutto irrazionale. Tra l'altro, apro una parentesi, parlo di fobia come di paura irrazionale, non direi che è clinicamente una fobia, nel senso che, poi qui ci vorrebbe uno psichiatra per fare valutazioni, o comunque uno psicologo, non è simile a come potrebbe essere l'arachnofobia o l'agorafobia, è più vicino a quello che potrebbe essere la xenofobia o l'omofobia, quindi quello che psicologicamente è più un atteggiamento negativo nei confronti di qualcosa basato su dei pregiudizi e degli stereotipi. Solo che purtroppo anche gli atteggiamenti poi sono precursori dell'azione, no? E quindi se sono omofobo, mi comporterò in maniera disdicevole nei confronti delle persone omosessuali, se sono chemofobico agirò come consumatore in un determinato... Questa scusami era la parentesi perché poi ho parlato di... Sì, sì, questo è un bel problema, cioè io ho pazienti che non vogliono ad esempio prendere le statine, non vogliono prendere i farmaci, che però hanno dei problemi reali di salute che non riescono in maniera, passami il termine, naturale a risolvere. Quindi ci sono dei soggetti che con l'alimentazione non riescono, anche se è precisa, è una buona composizione corporea, a tenere sotto controllo il colesterolo, perché per familiarità sale veramente tanto, quindi anche proprio il medico gli consiglia le statine, loro non le vogliono prendere, cioè... E le prendono solo e soltanto quando arrivano a dei livelli enormi, enormi, e quindi c'è proprio una paura. Poi magari prendono il riso rosso che ha principi molto simili, cioè dici, ma cavolo, cioè vai direttamente alla fonte quello che fa veramente la differenza. Si devono convincere dopo un bel po'. Ma perché sa di naturale. Sì. È uno dei motivi, purtroppo, per cui invece si prende con molta più nonchalanza, ad esempio i prodotti omeopatici, che sappiamo non funzionare meglio del placebo. Anche qui, a me è importante sottolineare, non funzionano meglio il placebo, funzionano. Ma come il placebo? Sì, è il motivo per cui, insomma, perché nel sapientissimo marketing di questi prodotti gli si è associati a un concetto di naturalità. E quindi non è, non stai prendendo la roba chimica, stai prendendo... Stai prendendo... Sì, è il classico. Travolo. E vabbè, ma figurati, io ho avuto questo trauma, trauma, adesso non esageriamo, però dovevo andare a fare una delle classiche vacanze studio, sono andato, ho fatto una vacanza studio a Brighton, e avevo del mal di gola prima di partire. Mia madre è andata in farmacia, io non avevo ancora approfondito bene i temi. Sì, studiavo chimica, non sapevo bene cosa fosse l'omeopatia, anzi, ero volendo anche vittima di questa idea di là, no? E mi torno a casa con delle pastigliette. Adesso non so se fosse oscillococcinum, se fosse qualcosa. Gli avevamo consigliato per la gola. Faccio tutto il viaggio, magari non ha neanche aiutato l'aria condizionata del... dell'aereo. Mi è partita una... Credo che fosse un'attonsillite. Adesso non ricordo vagamente. Sta di fatto che sono stato malissimo. Lì mi hanno dovuto portare la host family da un dottore locale. Ho fatto quattro pastiglie di penicillina al giorno per qualche giorno, perché quello che mi aveva andato in farmacia era omeopatico. Cioè, di fatto non c'era niente. Lì si è creata per me la frattura. Cioè, quando tu vai in farmacia con un problema e loro decidono di darti il prodotto omeopatico pur sapendo dal loro percorso di studi che quella roba non funziona, per me si è proprio creato un astio nei confronti di... Il problema è che l'omeopatia diventa proprio un credo molto profondo nelle persone e tendenzialmente si ancorano a questo credo e quindi tendenzialmente non cambiano idea. Cioè, tu gli puoi mettere l'evidenza, glielo puoi spiegare, puoi usare anche un po' di logica, ragione, buonsenso, ma vedo che tendenzialmente iniziano a citare qualsiasi cosa. Cioè, ah, ma allora anche gli animali guariscono con l'omeopatia, come ti spieghi questo, come ti spieghi quell'altro. Un po' come sce chimiche e altri complotti. La vedo molto molto su quella linea lì. Cioè, tu gli puoi dare tutta la prova scientifica, ma comunque sia, ormai loro ci hanno creduto. Su loro stessi ha funzionato per il discorso del placebo, perché tendenzialmente l'influenza se ne va da sola, eccetera. E quindi loro ormai sono ancorati dal di lì. Hanno questa fallaccia logica del, non so, la casa farmaceutica mi vuole avvelenare e quindi di fatto si ancorano a quello che anche c'è chi produce omeopatia è una lobby, c'è una sorta di casa farmaceutica. Anzi, forse anche le case farmaceutiche producono omeopatia. Possibile? Ti sei fermato? Allora, abbiamo perso una... Ho sempre prodotto anche con lo abili nella comunicazione. Sì, ti vedo... Sì, ti sei fermato di botto, ecco. Ti vedo blocchiato, aspetta che... Ti ho perso, ti ho perso. Eccoci. Dicevi? Vediamo se sono tornato. Sì, sei tornato. No, dicevo che ci sono delle realtà molto grosse dietro al mondo dell'omeopatia. Non so dirti come siano inquadrate nel mondo della farmaceutica se siano delle succursali o se siano cose in realtà che vanno avanti a parte. Ce ne sono molto grosse e comunicano molto bene. E lì io ci vedo una doppia cosa. Nel senso che da un lato c'è una cosa di cui dovremmo imparare molto dall'omeopatia e dai professionisti dell'omeopatia che purtroppo per questioni di tempo e di fondi nel mondo della medicina non manca. Che rapporto medico-paziente? Cioè quando tu vai dall'omeopata c'è una persona che magari ti ascolta anche un'ora e cerca di capire magari anche insomma umanamente chi sei o cosa stai vivendo o cosa stai soffrendo. E questo rapporto umano sicuramente nel processo di cura e di salute in senso ampio non solo come assenza di malattia sicuramente è prezioso. e sarebbe prezioso recuperare o imparare questa cosa. L'altra cosa è che comunque e non sono qui a fare il difensore delle case farmaceutiche quando nasce questo sentimento di chemofobia si scopre che siamo indicativamente negli anni 60-70 del secolo scorso. Cosa è successo negli anni 60-70 del secolo scorso? Hai avuto, beh, noi c'è stato Seveso che comunque in Italia ci ha segnato tantissimo. C'è stato Bopale il disastro, il più grande disastro chimico. C'è stato Talidomide, quindi questo farmaco che ha causato la nascita di più di 10.000 bambini con gravi malformazioni. C'è stata la pubblicazione di Primavera Silenziosa di Rachel Carson che ti ha fatto rendere conto che l'abuso del DDT stava creando i danni ecologici giganteschi. Quindi non è che la chemofobia nasce dal nulla. La chemofobia nasce da una titubanza più che razionale e oserei dire doverosa nei confronti di quello che esce dall'industria chimica e dall'industria farmaceutica. Perché non sono delle onlus, non sono dei santi e soprattutto ai tempi, quando non c'era in piedi tutto un sistema di controllo che abbiamo messo in piedi anche a causa di quei disastri, giustamente è un corno. Però posso capire quali siano le dinamiche che li portino a agire in maniera un pochettino negligente per usare un eufamismo. Quindi nasce da una base razionale, nasce da una rottura di fiducia tra cittadinanza e industria e quel rapporto di fiducia non si è più ricucito. E su questa titubanza, poi sulla naturale di sbettere oristiche, su tutta una serie di altri fattori, affonda questa paura di ciò che è chimico. Ma lo si vede tanto, è qualcosa che nel bene e nel male ci accompagna un po' tutti. Ecco, quindi che cos'è naturale e che cos'è chimico? Facciamo questa distinzione, così capiscono tutti. Secondo me non c'è distinzione. Allora, se usiamo in maniera precisa il termine naturale e chimico, tutto ciò che è naturale è chimico. E se vuoi, essendo la chimica una disciplina che studia la natura, tutto ciò che è chimico è naturale. Non è che la chimica fa qualcosa contro le leggi di natura, è sempre messo che esistano delle leggi di natura. Per cui per me non esiste proprio da chimico questa distinzione. Possiamo dire così che nel linguaggio comune, invece, ciò che è chimico si differenzia da ciò che è naturale perché è artefatto, è artificiale. Quindi è un qualcosa creato dall'uomo attraverso delle reazioni chimiche messe in piedi in un laboratorio, in un ambiente controllato. Ma non per forza. Io qui l'esempio classicissimo che faccio è quello dell'aspirina, che trovo un esempio molto molto forte. Cioè la natura già ci offre qualcosa di buono perché l'estratto della corteccia di salice contiene l'acido salicilico e i salicilati, che sappiamo essere degli ottimi analgesici, funzionano un po' anche nella fitoterapia. È un prodotto che trova riscontro, ha trovato storicamente riscontro. L'uso del salice risale almeno, almeno, almeno abbiamo delle testimonianze dai papiri di Ebers in Egitto, abbiamo testimonianze dell'uso del salice non so più in che dinastia di Ur, quindi siamo in Mesopotamia. È sempre stato usato e funziona. Problema, i salicilati, se usati regolarmente, creano delle forti ulcere, sono fortemente ulceranti. Qui subentra alla fine dell'Ottocento l'industria chimica, che è riuscita a fare l'acetilazione dell'acido salicilico, cioè proprio chimicamente ci ha attaccato un pezzettino, ha fatto il celeberrimo acido acetil salicilico, che chiamiamo comunemente aspirina, che funziona meglio ed è meno ulcerante. Cioè quindi a volte la natura ti offre qualcosa di buono, la chimica interviene, riesce addirittura a migliorarti quel qualcosa di buono che ti offre la natura. Quindi non necessariamente ciò che è artefatto, artificiale, è peggiore di quanto ci è offerto. Questo secondo me è l'esempio cardine che va a smontare questa convinzione che tutto ciò che sia artificiale sia peggio di ciò che è fatto all'uomo. Poi abbiamo n.mila esempi di casi in cui invece l'azione chimica, soprattutto fatta in maniera scellerata, inconsapevole, l'abuso dei prodotti chimici ci ha causato problemi. Provo magari a darti là per un tema che so che vuoi affrontare. Quando è nata la plastica salvava l'ambiente, perché una delle prime plastiche la celluloide veniva utilizzata per sostituire l'avorio per fare le palle da biliardo e l'avorio sappiamo da dove lo tiri fuori e gli elefanti non erano contenti di questo uso. Quindi i primi utilizzi della plastica stavano di fatto tutelando l'ambiente e l'ecologia e adesso poi invece l'abuso della plastica ci sta causando tutta una serie di altri problemucci piccini piccioni. Chiaro, quindi diciamo che sono sempre dei mezzi questi prodotti, le cose che noi facciamo. Quindi sta a noi capire come utilizzarli meglio. Ma basta pensare anche al processo tecnologico e ai tassi di longevità a cui siamo posti oggi. Nel senso che noi siamo nell'era proprio della longevità. Stiamo alzando in maniera molto importante l'aspettativa di vita grazie appunto alle cure. Il punto è che come dico sempre, sì, la vita sta allungando ma la qualità non sta migliorando proprio perché non agiamo in prevenzione sullo stile di vita per prevenire piuttosto che curare. Quindi però ci sono le cure che ci salvano la vita, ce l'allungano. Sta a noi capire come utilizzarle e perché utilizzarle sostanzialmente. Questo è un po' quello che dico sempre. Quello assolutamente. Poi collaborando con diverse realtà che si occupano di studio dei tumori si spinge sempre tantissimo sul concetto di prevenzione perché stiamo diventando sempre più bravi nella cura di queste malattie ma soprattutto un agire preventivo soprattutto attraverso lo stile di vita è focale ma è molto molto difficile sia da finanziare la comunicazione e l'informazione su un corretto stile di vita. È chiaramente più facile lavorare sulla cura perché giustamente il problema lo senti più vivo quando ce l'hai che quando non ce l'hai. Sì, ma anche perché poi quando si parla di stile di vita è qualcosa di lungo periodo cioè non è un anno non è un mese cioè cronicamente devi settare una determinata routine mentre di là se sei ammalato prendi un farmaco e ti dovrebbe salvare. Quindi sono proprio due approcci alla vita molto diversi. È molto molto complesso purtroppo parlare di prevenzione da un lato e l'altra cosa che molto spesso sottovalutiamo soprattutto noi di genere maschile è tutta la parte di screening cioè mentre fortunatamente le donne hanno diciamo così introdotto nel loro processo soprattutto che penso a tutte le visite per la prevenzione diciamo così la scoperta preventiva del tumore al seno noi vuoi anche perché sono parti un po' imbarazzanti si fa fatica a sottoporsi a tutte quelle visite che permetterebbero di beccare eventualmente certi certi tumori quindi anche anche su quello quindi non solo stile di vita ma anche adesso sto parlando di tumori ma perché sì 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 chiaro un neo fare la vista dei neo o anche solo quello anche solo quello quanto sarebbe prezioso tenersi controllati e anche qui non so se mi vedi lucido traslucido sto ripetendo un po' la luce ma la crema solare ok la crema solare è obiettivamente molto molto preziosa e tendiamo a metterla molto molto poco anche in casa beh io sono di fianco a una finestra quindi c'è poco che posso fare vivo di fianco alla finestra becco che mi piacciono la luce una protezione comunque che non è quando vado fuori al mare al sole tutto bello coperto e protezione 50 ma nella skin care routine sarebbe prezioso aggiungere un po' almeno sulle parti esposte un po' di crema di crema solare poi c'è tanta gente molto più preparata di me un segnalo ad esempio Gianluca Pistore che sul la prevenzione del melanoma ha fatto veramente una cosa importante un lavoro molto molto grosso impegnativo e significativo la crema solare poi vabbè adesso dopo esco per la questione di prevenzione qui sopra dopo esco vado in palestra e quindi comunque i miei 20 minuti a piedi andate 20 minuti e ritorno sotto il sole me li faccio un po' di crema solare la metto poi la metto meno di quanto sarebbe necessario perché se uno guarda davvero quante anni devi mettere è un problema se uno dovesse mettere la dose giusta di crema solare cosa che purtroppo non fa nessuno la boccetta va via veramente in pochissimi giorni quindi quando si consiglia di utilizzare le protezioni alte lo si fa anche sapendo che le persone ne useranno meno il necessario è per quello che è un po' per bilanciare la roba uso la 50 ma so che ne metto meno di quello che è stata testata della quantità è stata per essere una protezione 50 tra l'altro ci sono delle foto degli studi che fanno vedere proprio l'utilità della crema solare adesso arriva la bella stagione si vede proprio una foto emblematica bellissima di una camionista che andava sempre da un lato c'era la faccia a parte di destra distrutta la parte di sinistra era abbastanza messa bene cioè una netta spaccatura tra le due condizioni esposizione e non esposizione oppure altre foto di persone che sono sempre messe la crema solare in faccia e non sul collo il collo rovinato distrutta la pelle dal sole da anni 60 70 anni il viso invece è ampiamente migliore assolutamente sì ed è il motivo non so perché in tutte le case in cui sono stato lavoravo con la finestra di qua e quindi sono sicuro che se andrò avanti così a lungo termine si vedrà che questa parte è stata più esposta è stata più esposta al sole rispetto rispetto alle altre non è chiaramente come chi lavora come camionista che ha sempre proprio quel lato esposto ed è anche molto vicino al finestrino e sì a volte c'è anche il braccio fuori no? sì sì quindi ok però ragazzi usate la crema solare sì sì usate la crema solare poi appunto quando sono in casa così uso questa qui che anche mi riflette la luce che sembra un faro ok ma ce ne sono anche di meno insomma meno oleose e non fa male e non fa male allora no se usata correttamente no poi tra alcuni composti ogni tanto salta fuori che potrebbe essercene qualcuno che che magari anche anche per l'ambiente non è il top del top soprattutto per quanto riguarda le protezioni le protezioni solari la cosa buona è che in Europa siamo molto molto lungimiranti quindi quando saltano fuori dei problemi che certi composti possono causare alla salute o all'ambiente tendiamo ad agire molto in fretta a livello legislativo e siamo sospetti per poco tempo eh sì no su quello io sono ragionevolmente sicuro perché anche se metto qualcosa uso qualcosa che potrebbe crearmi dei problemi l'Europa agisce molto molto in fretta esempio classicissimo il bisfenolo A che è un tema molto molto caldo è utilizzato nella produzione di alcuni policarbonati a volte un tempo si usavano di più per i contenitori per alimenti policarbonati adesso non si usano più tantissimo e anche in alcune resine possidiche che ad esempio ti rivestono l'interno delle lattine per non far entrare a contatto o la bevanda con la latta o il liquido che ne sono dei fagioli con l'alluminio perché quello avrebbe un'accessione di alluminio drammatico quindi tu rivesti internalmente con una resina ma a volte queste resine sono fatte col bisfenolo A e adesso sappiamo l'ultimo l'ultima valutazione dell'EFSA che è l'autorità europea che si occupa di sicurezza alimentare che sta a Parma tra l'altro l'Europa lontana l'EFSA è a Parma hanno abbassato la soglia che avevano stabilito precedentemente di 20.000 volte e da questa loro ultima valutazione tutti superiamo una dose ragionevolmente sicura di esposizione al bisfenolo A quello che mi fa stare sicuro e mi fa comunque comprare il legume in scatola un po' per pigrizia è il fatto che sono certo che adesso che l'EFSA ha fatto la valutazione a breve l'Europa legifererà a riguardo e ci saranno delle fortissime limitazioni se non un ban definitivo dell'uso del bisfenolo A quindi anche questa esposizione andrà pian piano diminuendo e prima che questo avvenga sono ancora più certo che vedremo sulle confezioni dei legumi senza bisfenolo A perché il marketing quando si accorge arriva prima del legislatore arriva prima del legislatore giusto giusto ma pensa che ho fatto un video dove parlavo dei ceci in scatola di quanto appunto si possono consumare i legumi in scatola è nato virale mi sono preso tanti quegli insulti ti dovrebbero radiare un biologo nutrizionista perché associano la latta associano i ceci in scatola a qualcosa di chimico di dannoso davvero che ha perso i nutrienti sì 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 se fai un video vai virale al 100% perché ho parlato proprio dei ceci che io li utilizzo li consiglio eccetera per praticità perché alla fine nessuno li usa se no i legumi perché hanno di tempo di ammollo cioè diventa veramente impegnativo quindi meglio mangiarli che non mangiarli quindi abbiamo questa possibilità perché non sfruttarla quindi fai un video perché sarà sicuramente super interessante allora prima ci hai un po' parlato delle plastiche ci spieghi un attimo che cos'è la plastica e qual è il problema di questo strumento Urca la definizione di plastica è un disastro nel senso che anche quando i miei due colleghi Simone e Stefano abbiamo scritto il libro quello che sai sulla plastica è sbagliato è stato un disastro riuscire a trovare una definizione prova a darti quella su cui c'è stata un po' di convergenza ed è anche quella utilizzata dall'Europa la plastica è un materiale polimerico quindi è fatta da polimeri però questo non basta definirla perché la cellulosa gli amidi le proteine sono materiali polimerici quindi non è solo un materiale polimerico ma è un materiale polimerico che per la cui produzione è stato necessario modificarne i legami chimici quindi è un polimero che in qualche modo in qualche modo si è intervenuto a livello a livello molecolare questa è proprio la definizione di plastica che poi riesce fortunatamente a racchiudere tutto quello che noi abbiamo intuitivamente in mente come plastica per rendere proprio chiara la differenza l'esempio migliore forse è quello del celofan il celofan siamo tutti d'accordo che è plastica ma chimicamente parlando è cellulosa cioè il celofan non è diversa chimicamente dalla cellulosa degli alberi ma perché il celofan è plastica e la cellulosa dell'albero no? perché il celofan per farlo parti dalla cellulosa la modifichi chimicamente e poi la fai tornare cellulosa quindi siccome ha subito delle modifiche a livello chimico nel processo di lavorazione il celofan è plastica la cellulosa degli alberi la cellulosa degli alberi no questa è più o meno così proprio per farla in soldoni la definizione di di plastica sì su 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 il grosso problema della plastica è il suo abuso cioè tu conta che ne stiamo usando tantissimo è un materiale straordinario mettiamo in chiaro sta cosa è leggero è versatile è poco costoso soprattutto ad esempio nel settore medicale ti garantisce una sicurezza che nessun altro materiale ti riesce a garantire e quindi materiale incredibile poi però considera che adesso ne produciamo sia un 400 megatonnellate all'anno di plastica nuova quindi se uno pensa che una tonnellata è una fiat panda come peso hai 400 milioni di fiat panda di plastica che vengono prodotti ogni anno è una cosa fuori dall'immaginabile e l'oxe ha fatto delle stime sulla produzione di plastica da qui al 2060 e ha detto se andiamo avanti come se nulla fosse supereremo la gigatonnellata quindi la produzione annua di un miliardo di tonnellate che di base non sarebbe neanche un grosso problema il problema è come viene gestita dallo smaltimento a tutti questi effetti collaterali che la plastica ha quello è sicuramente una grossa una grossa fetta diciamo che così una questa sua produzione in aumento costante non aiuta a gestirla bene però il grosso problema della plastica è proprio come viene gestita una volta che è messa sul mercato e l'altro grossissimo problema noi abbiamo sicuramente in mente la questione plastica in natura plastica negli oceani nell'ambiente l'immagine della tartaruga che resta incastrata nel sacchetto nel six pack della birra la plastica che finisce in mare la plastica che finisce in natura è proprio in larghissima misura plastica che si dice mismanaged cioè una plastica che ha raggiunto la fine della sua vita doveva seguire un percorso di rifiuti sensato quindi andare auspicabilmente a riciclo se no a termovalorizzazione e se no a discarica ma è stata mal gestita quindi non è tanto il littering quindi la persona maleducata che ti getta la plastica nel fiume che ti getta la plastica per terra quello conta per il 5% della plastica ad esempio negli oceani che poi comunque il 5% di 22 milioni di tonnellate di plastica che finisce negli oceani è tantissimo ok però il grosso mi sembra un'ottantina circa l'80% è proprio mismanaged cioè plastica che diventa rifiuto e che poi è mal gestita però tendentemente questa mal gestione è derivata da piccoli cioè aree specifiche del mondo Sud America allora Asia si hai soprattutto arriva la plastica arriva in mare arriva soprattutto ai fiumi e sono soprattutto grandi fiumi asiatici perché perché hai lì stai vivendo un boom economico e solitamente il boom economico è associato a una grossa crescita della produzione di plastica ad esempio non c'è ancora disaccoppiamento tra produzione di plastica monouso e crescita economica quindi ad oggi se vuoi crescita economica c'è crescita di produzione di plastica monouso quindi loro stanno vivendo un boom economico quindi un boom della produzione di di plastica e non hanno ancora in piedi dei sistemi per la gestione della plastica adeguati perché non riescono a stare al passo con la plastica che stanno producendo in abuso questo però non vuol dire che il problema non sia anche nostro è vero noi siamo molto più bravi a gestirla come rifiuto ad esempio in Europa abbiamo comunque una significativa quantità di plastica mismanaged e di plastica che finisce negli oceani l'Italia è un caso che mi fa morire da ridere perché riusciamo a essere al tempo stesso tra i migliori in Europa nella gestione dei rifiuti plastici cioè siamo abbastanza nella testa della classifica sesto settimo quinto posto a seconda di chi la stila e poi siamo anche tra quelli con la maggiore malagestione cioè quindi quando la gestiamo bene la gestiamo benissimo quando la gestiamo male la gestiamo malissimo uno può anche dire vabbè sappiamo c'è molta malavita criminalità organizzata che talvolta si insinua purtroppo nella gestione dei rifiuti e quindi abbiamo anche una grossa fetta di plastica malgestita ma rispetto diciamo così ai paesi europei con cui ci fa piacere paragonarci come potrebbe essere Francia Germania ai paesi del nord siamo tra quelli con la più alta mala gestione pro capite invece è paragonabile magari a paesi più dell'est con cui però diciamo così non ci inorgoglisce il paragone e questo mi fa molto sorridere perché siamo bravissimi quando segue i percorsi due renti auspicabili ma quando non li segue facciamo comunque abbastanza e c'è un'alternativa a livello di prodotti nel senso che oggi la plastica è uno dei prodotti appunto più economici più versatili c'è una reale alternativa che al tempo stesso non sia così tanto impattante sull'ecosistema ecco quella è una questione importante allora io ho provato a indagare ho provato ad approfondire il contato mi è partito ok google non so perché ok spegniti no ho provato ad approfondire soprattutto a livello di contenitori per bevande nel senso che è un qualcosa su cui c'è molta ricerca mi sono chiesto ma c'è un materiale migliore per contenere le bevande rispetto alla bottiglietta di plastica è saltata fuori che qualcosina c'è esempio immaginiamoci solo di muoverci nel monouso poi ragioniamo in termini di riutilizzo ma siamo solo monouso il vetro è devastante cioè il vetro monouso rispetto alla plastica perde sempre ma di tantissimo perché per essere lavorato richiede altissime temperature e richiede anche una grossa quantità di materiale perché se vuoi una bottiglia ragionevolmente spessa per essere insomma non fragilissima devi comunque lavorarne tanto quindi alte temperature per tanto materiale e il suo peso influisce anche un po' sul trasporto perché chiaramente devi trasportare più più peso a parità di volume contenuto quindi il vetro monouso perde sempre nonostante sia ottimamente riciclabile parliamoci chiaro poi la plastica se la gioca tutto sommato con l'alluminio vede molto dipende molto dallo studio che vai a considerare a volte vince l'alluminio a volte vince la plastica diciamo che più o meno più o meno se la giocano quello che sembra vincere a livello di analisi di ciclo di vita su di solito valutano 18 categorie di impatto quindi eutrofizzazione distruzione del buco all'ozono emissioni clima alteranti emissioni di altri di altri inquinanti inquinamento del suolo inquinamento del suolo eccetera eccetera quello che sembra vincere sulle bevande ma che ad esempio raramente contiene tutti i tipi di bevande ad esempio non mi sembra aver mai visto bevande frizzanti è il brick cioè il brick è il cartone quello che chiamano in letteratura cartone asettico noi diciamo così per antonomasia chiamiamo tetrapack sembra vincere tranne su una categoria di impatto la categoria di impatto in cui il cartone asettico perde è il consumo di suolo perché chiaramente per produrre la cellulosa di cui è fatto diciamo così una grossa fetta di cartone asettico devi consumare terreno va bene allora questa è una domanda bellissima nel senso che sì ma no o no ma sì nel senso che parliamo di tetrapack ma perché il più famoso è un po' l'antonomasia come funziona lo fa intuire anche il nome fatto principalmente a quattro materiali il grosso è cellulosa cioè la grossa il grosso peso è cellulosa poi hai uno strato esterno di plastica che insomma permette di non fare in modo che l'umidità non devasti la cellulosa poi hai uno strato d'alluminio che è quello che gli garantisce internamente è uno strato d'alluminio che gli garantisce la conservazione delle bevande perché l'alluminio è molto molto buono nella conservazione e poi hai uno strato di plastica tra alluminio e contenito e bevanda perché tu non vuoi che la bevanda del contatto con l'alluminio quindi hai questi quattro materiali la maggior parte ci sono poche in cartiere l'ultima volta che avevo sentito un dato era due cartiere in Italia magari sono cresciute nel frattempo che riescono davvero a gestire tutti i materiali di cui è fatto il cartone asettico e quindi a riciclarli tutti e tre perché sono quattro ma potenzialmente riciclabile ma è difficile è difficile l'altra cosa però è talmente tanto cellulosa cioè a livello di peso che anche se tu il resto quindi la parte di alluminio e la parte di plastica che sono molto molto leggere non le riciclili non è un dramma vinci comunque da un punto di vista ambientale quindi è talmente poco a livello di peso il materiale in questione che di fatto anche se non riesci a riciclarli da un punto di vista ambientale vince il cartone il cartone assettico se invece vai sul riutilizzo le cose cambiano nel senso che se riutilizzi i contenitori ad esempio di vetro no cioè la bottiglia col vuoto a rendere lì le cose cambiano a patto che vengano soddisfatte due condizioni che la bottiglia sia riutilizzata tante volte quindi deve essere riutilizzata a seconda dello studio fai un 15 20 25 volte e questo non ho sempre detto che succeda nel senso che qualche ricercatore che ho sentito ha detto ma noi abbiamo parlato con chi di usa dicono che più o meno una bottiglia durano 7 volte 10 volte quindi non è detto che vengano riutilizzate a vero 21 volte perché nel trasporto si scheggiano si rovinano e tutto e che l'impianto di pulizia e riempimento non stia più lontano di 150 200 km quindi se vengono soddisfatte queste due condizioni il vetro se la gioca con la plastica altrimenti vince la plastica ultima considerazione poi la smetto se però uno ha la sua bottiglia di vetro o la sua caraffa e se la riempi al rubinetto se gli piace l'acqua del proprio rubinetto o se la riempi alla casetta dell'acqua immaginando che non debba fare 50 km per andare a riempirla allora vince il vetro cioè se in quel caso tu hai la bottiglia di vetro te la riempi al rubinetto e te la lavi in lavastoviglio ogni tanto allora vince il vetro ma non vincerà mai la bottiglietta di plastica che andava di moda un paio di anni fa giusto? in che sé qual è la bottiglietta di plastica che andava di moda? no nel senso le bottigliette le borracce che sono state diciamo portavosi dell'ecologia del risparmio del benessere eccetera quanto la borraccia in plastica impatta meno rispetto al bottiglione d'acqua ecco allora questa è una bellissima perché io sono saltato fuori col borraccia gate anche no come il nemico giurato della borraccia in realtà voglio chiedere scusa alle borracce io sono un frequente utilizzatore di borracce ho tanti amici borracce no qui la questione è simpatica nel senso che ho trovato un solo studio che fa il paragone di impatto ambientale tra una borraccia e le bottiglie di plastica a monouso italiano tra l'altro è una docente all'università di Ferrara e quello che salta fuori è all'inizio quello che sembra intuitivo cioè a produrti la borraccia allora ho studiato l'alluminio però diciamo che possiamo estendere un po' tutte le considerazioni a produrla impatti di più poi man mano che butti le bottigliette e riutilizzi la borraccia la borraccia recupera terreno e vince ma se tu vai a inserire nel conteggio di analisi di impatto ambientale il fatto che la borraccia andrebbe lavata tutti i giorni con acqua calda e sapone per garantirne la sicurezza da un punto di vista microbiologico hai consideri nella valutazione di impatto ambientale soprattutto le emissioni dovute a riscaldare l'acqua perché abbiamo presente tutto in accaldaia metano allora conviene fino a tre bottigliette di plastica al giorno rispetto alla borraccia e poi non si tiene conto del fatto che la borraccia si può rompere la perdiamo cioè quindi io ero partito col filone borraccia poi la perdevo si rompeva puzzava quindi la devo lavare quindi alla fine sono passato alla bottiglia ma dimmi se faccio bene o faccio male o è pericoloso parlando spesso di microplastiche cioè io sostanzialmente inizio la giornata con questi due litri e poi diciamo la vado a riempire con l'acqua di rubinetto quindi svuoto la bottiglia e la vado a riempire può essere un problema? allora è interessante la tua è una buona strategia nel senso che riutilizzandola magari una o due volte stai stai ulteriormente abbassando l'impatto della borraccia della bottiglia di plastica tra l'altro io non sono così un denigratore della borraccia in realtà appunto la utilizzo ma proprio per un ragionamento che non ha troppo neanche a che fare in parte ha a che fare con l'impatto ambientale ma non ha troppo a che fare con l'impatto ambientale ad esempio se uno lava nella vostra biglia già l'impatto diminuisce rispetto alla baggio a mano o a che fare con una riduzione del numero di rifiuti cioè la mia idea è rispetto a tutto l'impatto ambientale preferisco ridurre il numero di rifiuti allora uso la borraccia però è interessante riutilizzare la bottiglia di plastica perché in parte ne va a ridurre ulteriormente l'impatto e due si può fare cioè da un punto di vista della sicurezza parliamo così chimica riutilizzare la bottiglia è fattibilissimo ci sono dei lavori sul rilascio di sostanze conservando l'acqua nella bottiglia di plastica e è più che ragionevolmente sicura lato microplastiche sicuramente avrai dell'accessione cioè questo è certo che già solo con la prima bevuta prima ancora di riempirla c'è rilascio di microplastiche dalla plastica dal pet della bottiglia all'acqua che stai bevendo quando la riempi sicuramente c'è un'ulteriore un'ulteriore eccessione ma il grosso problema in realtà di riutilizzare la bottiglia di plastica non è tanto di natura chimica ma di natura microbiologica perché quello è un oggetto che non è pensato per essere riutilizzato è pensato per essere monouso quindi si rovina molto più facilmente si graffia si ragomitola un po' tutta in quel caso se uno magari uno la riutilizza per la giornata e poi la butta e quindi non è un problema ma se uno magari la riusa per più giorni in quel caso potrebbero crearsi degli anfratti dove i batteri possono proliferare e in quel caso diciamo così il consiglio è si può riutilizzare la bottiglia di plastica ma appena inizia a essere rovinata ammaccata aggraffiata conviene gettarla perché può essere può fornire riparo ai batteri e non può cioè si può essere lavata però a questo punto uno lava la borraccia quindi diciamo che non è tanto un problema di microplastica in questo contesto ma più microbiologico più microbiologico detto che ancora oggi non sappiamo qual è l'impatto delle microplastiche ok magari scopriremo che sono devastanti e quindi diventerà un grosso problema per quanto ne sappiamo oggi no ecco ho letto nei meandri dell'internet quindi senza fare un'analisi approfondita della letteratura scientifica che noi mediamente ogni giorno introduciamo una carta di credito è vero è falso dicci un po' la tua allora quel dato arriva ed è effettivamente molto utilizzato arriva da una pubblicazione del WWF un report e il WWF a un certo punto commissiona uno studio all'università di Newcastle in Australia e salta fuori in questo report dicono potremmo ingerire 5 grammi di plastica a settimana all'equivalente di una carta di credito fa spavento obiettivamente poi lo studio è stato pubblicato sono andato a vedermelo e già dice una cosa diversa lo studio vero e proprio con letteratura scientifica perché non ti parla di 5 grammi a settimana ti parla di 0,7 grammi a settimana in un intervallo che va da 0,1 a 5 quindi diciamo così comunicativamente il WWF ha fatto la furbata cioè ha preso l'estremo superiore dell'intervallo valutato dallo studio e l'ha utilizzato perché è molto più forte dal punto di vista comunicativo è grande è una tessera è quella la cosa e poi gli dai subito l'associazione cioè io mangio questa settimana sì te la sgranocchi no lì la questione è vabbè magari non è 5 grammi è 0,7 è comunque una carta di credito al mese non è che non è che più allettante come notizia no direi di no hanno fatto degli altri lavori ad esempio uno è pubblicato su una rivista dell'American Chemical Society che hanno provato a fare le stesse stime con metodologie diverse e dicono no noi viene un dato un milione di volte più basso di quelle WWF che non vuol dire più una carta di credito a settimana o al mese ma vuol dire una carta di credito ogni 23 mila anni che insomma è una bella differenza la verità che ad oggi non lo sappiamo c'è un lavoro dell'OMS quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità un report del 2022 che ha provato a stimare la quantità di microplastiche che vediamo mangiamo e inaliamo quindi respiriamo e dicono che ad oggi è impossibile è impossibile sapere sappiamo per certo che le mangiamo sappiamo per certo che le respiriamo sappiamo per certo che le beviamo ma non abbiamo ancora abbastanza dati sulla loro presenza nei cibi e nell'aria per sapere dire quante davvero e di conseguenza non solo di conseguenza in generale non sappiamo neanche ancora quale sia l'impatto sulla salute di queste microplastiche quello che io ormai dico sempre che è ragionevole pensare è che bene non facciano direi di no la cosa certa è che probabilmente bene non fanno ora in che modo in che misura in che dosi quanto e se ci fanno male è ancora un punto di domanda sicuramente queste microplastiche però si vanno a bioaccumulare in quegli animali che comunque stanno a contatto con queste microplastiche quindi sicuramente l'animale in sé tende a essere un vettore maggiore rispetto a la lattuga mi viene da pensare il gamberetto o il cinghiale il tonno eccetera tendenzialmente potrebbero avere molte più microplastiche rispetto alla soia esempio sì c'è sempre il processo di biomagnificazione quindi più vai all'apice della rete trofica della catena alimentare è più facile che ti trovi rova quindi hai il pesce grande che è molto più facile che contenga mercurio o microplastiche in questo caso perché ha mangiato chi ha già mangiato microplastiche quindi vai a sommare tutte queste cose per una vita anche più lunga quindi quello è sicuramente è sicuramente vero il punto è ancora c'è un lavoro molto importante è stato pubblicato all'università della campagna a Bambitelli mi sembra e hanno beccato per delle persone che devono fare una rimozione delle placche aterosclerotiche dalla carotide ha visto che alcuni avevano microplastiche alcuni no in queste placche hanno separato i due gruppi li hanno monitorati poi per tre anni quelli che avevano nelle placche aterosclerotiche le microplastiche erano significativamente più soggetti infarti ictus e all cause mortality quindi morte per causa morivano in maniera statisticamente più significativa a quelli che avevano le microplastiche quindi questo sicuramente non fa ben sperare però nello studio sottolineano una cosa importante dicono occio dicono proprio così occio occio che abbiamo trovato una correlazione non un nesso di causa effetto quindi potrebbero esserci magari dei fattori comuni che portano a queste conseguenze ad esempio magari chi ha più microplastiche nelle placche aterosclerotiche vive in zone più inquinate e quindi è il fatto che vive in zone più inquinate che gli porta al maggiore probabilità di ictus infarto e mortalità or cause mortality oppure spesso legata a questa cosa c'è lo status socio-economico quindi che ha uno status socio-economico più basso è più probabile che sviluppi e che abbia microplastiche però diciamo che a livello logico chi predilige una dieta principalmente vegetariana vegana o comunque che utilizza meno prodotti animali specialmente animali che vivono a lungo e meno probabilità sicuramente di inglobare tanta microplastica giusto? mi sembra ragionevole non ho dati per supportarlo proprio perché non abbiamo ancora sufficienti dati sulla quantità di microplastiche negli alimenti mi sembra insomma una considerazione cioè se è vero per altri tipi di inquinanti cosa che appunto nel caso del mercurio per i pesci è sottoscrivibile mi sembra mi sembra del tutto ragionevole un altro motivo in più per prediligere i vegetali ottimo ma sono pronto a sottoscriverlo quando quando vuoi qui in questo caso possiamo fare un'ulteriore causa magari se si ha voglia per evitare per prediligere quando si può quando si vuole il legume non in scatola perché lì puoi avere comunque un po' di cessione dalla resina interna al liquido che contiene i legumi però cioè proprio in genere ma per qualsiasi motivo bisogna prediligere una dieta più più vegetale cioè abbiamo aggiunto un altro punto ci sono talmente tante ragioni per farlo di salute economico di impatto ambientale cioè la riduzione del consumo di carne soprattutto quella da ruminanti è fondamentale è chiave è veramente chiave sì sì che poi molte volte si parla anche di semplice riduzione non per forza eliminazione ma no io quando parlo di aumentare prodotti vegetali tutti associo il discorso dovevo diventare vegetariano o vegano semplicemente basta riprendere avere il buon senso e un'alimentazione equilibrata punto quindi se ti piace la carne puoi mangiartela però non ogni giorno cioè devi controllare il consumo e ti do dei dati che non riesco a supportare diciamo così ti do dei dati che ho sentito dire quindi non ho tra l'altro uno da Giulio Innocenzi quindi tendo a prenderlo con le pinze comunque mi sembra che ad oggi il consumo medio di carne in Italia sia un 80 chili all'anno a testa che data così mi pare pure sensato mentre sentivo mi sembra da Alberto Grandi quello storico della cucina e dell'alimentazione che fa tanto parlare di secolo di doi per intenderci mi sembra appunto non voglio citare cose poi magari le dico sbagliate che quando seguivamo la dieta mediterranea quindi quando anni fa in Italia si mangiavano sieno 8 chili all'anno a testa quindi abbiamo aumentato di un per 10 la quanti il consumo di carne ma basta pensare un po' i nostri nonni bisnonni quanta carne mangiavano ne mangiavano veramente poca tendenzialmente era una rarità anche era della domenica sì anche le parti più povere come il grasso erano comunque sia delle componenti molto rare e infatti c'era proprio il rito del maiale cioè era proprio valorizzata e principalmente erano vegetali poi c'erano altri problemi di alimentazione poche proteine eccetera eccetera però tendenzialmente è salito questo consumo di prodotti di origine animale da appunto l'industrializzazione da il fatto che hanno reso scalabile l'allevamento quindi l'hanno industrializzato l'hanno intensificato e l'hanno associato a qualcosa di positivo cioè mangia la carne mangia la carne di benestero mangia quello mangia quell'altro ma pensa quanto quanto è un simbolo anche di mascolinità la carne è stato fortissimamente no? il grill pensano gli Stati Uniti quanto è e macia la carne quindi sono riusciti abilmente ad associare il consumo di carne a tutta una serie di aspetti positivi e poi comunque c'è per carità io lo dico da univoro non sto facendo proselitismo però davvero una riduzione del consumo di carne è sottoscrivibile io ti posso dire dal punto di vista sicuramente ambientale ci sono anche dei lavori economici perché il legume ti costa comunque molto meno anche della carne meno costosa basta vedere anche c'è proprio l'impatto di consumo del suolo risorse idriche CO2 della carne rossa adesso non metto qua il grafico che avevo letto è una roba assurda follia totale quindi no dobbiamo ridurla assolutamente per il benessere dell'animale per l'ambiente e poi anche per il nostro benessere perché comunque non fa bene consumarne così tanta e io sono nel settore da nutrizione fitness arrivano dei pazienti in studio con delle diete folli insaccati ogni giorno pet di pollo tacchino fesa e poi questa è la carne poi c'è tutta la parte del pesce quindi tonni scatola merluzzo e poi abbiamo una quantità esorbitante di latticini yogurt greco fiocchi di latte vai a vedere cioè è una dieta carnivora quella cioè non è più neanche cioè è veramente follia cioè sei perso il buon senso perché ragionano per soli macronutrienti quindi puntano sul pollo puntano sul tacchino che va benissimo ma parliamo veramente di chili settimanali e quindi cioè è proprio follia più totale quindi non capiscono molte volte anche dall'ignoranza che si possono fare dei piatti equilibrati bilanciati anche se sono vegani o vegetariani e quindi anche senza diventare vegetariani o vegani introducendoli si aumenta la variabilità e la diciamo si va a differenziare la fonte alimentare quindi ci sono dei piatti anche più più buoni si mangia in maniera più vario e si impatta anche meno quindi c'è purtroppo un grosso problema culturale nel settore del fitness e della nutrizione specialmente per chi vuole mettere su massa muscolare perché c'è sempre l'associazione delle proteine in una dieta vegetariana o vegana da dove le prendo come faccio a mettere su muscolo se non mangio la carne il pollo eccetera eccetera il ferro da dove lo prendo tutte queste robine qui dettate dall'ignoranza perché ovviamente non è così portano dei grossi problemi e non fanno fare il cambiamento posso dire una cosa un po' un po' antipatica fai una grossa fetta e lo vedo anche online e in televisione santo cielo cioè c'è proprio un livello molto molto basso nella divulgazione dei temi alimentari cioè c'è vedo che anche per il modo per fare clienti non mettersi sui social a parlare di nutrizione e vedo di quelle cose da tuoi colleghi veramente alienanti c'è proprio un problema anche di formazione alla base ma sento amici persone a cui vengono fatte delle diete che non stanno né in cielo né in terra ma è che il fatto che l'uomo risponde bene a diverse strategie alimentari specialmente nel breve periodo e quindi persone creano il loro metodo la loro dieta citando qualche studio fatto male qualche popolazione del paleolitico cioè vanno a romanzare con la realtà e poi di fatto tirano fuori qualcosa associando sempre al naturale al complotto eccetera creando degli estremismi estremi adesso va molto di moda il bombardare produtturalmente le persone di carne di uova cioè riempire di prodotti animali e non vegetali perché perché hanno tirato fuori le loro teorie che sono cibi naturali non processati non hanno sostanze chimiche e i vegetali hanno degli antinutrienti tutte queste robine qui ma è follia è follia in realtà c'è proprio un filone di questo di questo mondo persone che fanno diete iperproteiche appunto tutte da fonti animali per dimagrire velocemente per avere un impatto molto rapido e il punto è che queste strategie funzionano perché funzionano? perché questi soggetti passano dal mangiare pizze e patatine al mangiare cose comunque sia proteiche che tendenzialmente non super caloriche a rispettare un minimo una logica e quindi vanno a migliorare ma nel medio lungo periodo hanno eliminato la maggior parte degli alimenti e tutto quello che è diciamo esclusivo poi va a creare dei problemi anche psicologici perché dopo li vai a bramare molti di più rischi maggiori carenze e hai squilibrato senza un senso l'alimentazione e quindi si sta proprio uscendo dal buon senso logico e il problema è che in tv ad esempio invitano sempre i soliti ospiti sempre le solite persone di 50 60 80 anni che probabilmente non si sono più aggiornate perché la nutrizione ha fatto dei passi enormi dal 2010 2012 a oggi e c'è un'evidenza scientifica di quello che realmente funziona molto solida molto importante il punto è che ognuno fa di testa sua va a interpretare la ricerca scientifica a suo modo e vanno anche ad entrare in un discorso di complotto di non seguire l'idea guida non seguire l'OMS e quindi è un grosso problema specialmente su un settore su professionisti che dovrebbero trasmettere un minimo di basi scientifiche dovrebbero dare un filone logico un'unione in realtà ognuno se ne esce con la sua dieta e fa un danno certo è anche la questione di posizionamento cioè se uno perché se è molto meno facile vendere dicendo vabbè più o meno seguiamo le linee del crea o le linee ricerca ma quando io parlo di linee guida stai a vedere i commenti ce ne sono sempre una decina che vanno contro queste linee guida ancora citare sulle linee guida ancora citi le linee guida l'OMS non hai visto quello che ha fatto in pandemia dopo entrano anche quei no bugs passati eccetera eccetera quindi sì è un grosso problema anche perché poi quando tu citi le linee guida fai vedere che comunque sia c'è qualcosa di semplice da fare ci sono dei principi ci sono dei pattern che ognuno di noi deve seguire non c'è qualcosa di strano di superfood eccetera gli dai una cosa troppo semplice troppo banale e se fosse così semplice l'avrebbero fatto già tutti eccetera tirano fuori queste robe qui e quindi il fatto che loro si vanno a infilare nei superfood nei cibi strani nelle diete più strane che la maggior parte delle persone non fa è affascinante gli dà qualcosa in più cioè gli dà più motivazione gli dice ok ho trovato la strada giusta in più nel breve periodo funziona ma la svolta poi correggimi se sbaglio sto notando tanto appunto tu che ti occupi soprattutto anche di aspetti sportivi tendiamo ad applicare diete tendiamo a voler seguire diete da sportivi anche se non lo siamo cioè è quella la roba che sto vedendo sto vedendo tanto perché se magari uno che fa sport insomma seriamente si allena tanto ha bisogno vedo soprattutto questo sulle protezioni un certo apporto proteico magari una persona non dico sedentaria ma che comunque fa un'attività sportiva moderata non avrebbe bisogno di tutto quell'apporto proteico però vedo che lo cerchiamo allora ci sono due filoni c'è lo sportivo che avrebbe bisogno di una dieta più diciamo passami il termine sporca quindi con calorie molto più artificiali non artificiali più meno più raffinate ok quindi con meno fibre merendine avrebbe bisogno di più energia più disponibile che però si deve performare esatto che però è entrato nel filone della dieta sana devo mangiare tanta frutta tanta verdura tante proteine magre eccetera e quindi non riesce a performare perché ha poche calorie in relazione alle sue esigenze energetiche quindi c'è lo sportivo che crea la dieta troppo salutare come se dovesse dimagrire e non ha carburante per essere performante dall'altra parte c'è quello che si scrive in palestra e inizia a prendere migliaia di integratori tantissime proteine eccetera quando in realtà non è quello che fa realmente la differenza sicuramente adesso c'è una grossa moda del prendo quello che ha proteico se ha proteico fa bene non mi fa ingrassare spoiler le proteine hanno delle calorie e anche con un eccesso comunque sia noi andiamo a ingrassare in ogni caso però mediamente il soggetto che tendenzialmente anche se è sedentario tiene le proteine leggermente alte nel filone basso del range dello sportivo mediamente ha un vantaggio perché? perché se tu tieni le proteine tendenzialmente un po' alte uno non ha dei danni dei reni eccetera eccetera ma se tieni le proteine tendenzialmente alte anche se non hai un'esigenza importante vai comunque sia a selezionare degli alimenti che mediamente sono più equilibrati più sani quindi cosa vuol dire? perché se tu tieni 1,5 1,6 grammi di proteine per chilo mediamente per arrivare a quelle quote ti mangi il pato di pollo ti mangi il merlusso ti mangi il tofu ti mangi il seitan vai a variare vai a introdurre alimenti meno processati meno densi di energie che ti danno più sastetà e quindi nella media la tua dieta è più equilibrata ti dà più sastetà ed è tendenzialmente meglio quindi questo non vuol dire che dobbiamo essere pieni di proteine molti associano appunto la proteina alla crisi muscolare in realtà non è proprio così quindi il gioco è come sempre bilanciare essere seguiti e sapere che cosa si sta facendo quindi non fare una cosa a caso lo sportivo commette l'errore che prende la dieta classica salutare e la apporta a un sofabisogno che è raddoppiato è enorme il sedentario vede il palestrato e fa la sua dieta questo è un problema ok questo è un grosso problema però alla base come dico sempre c'è cultura e consapevolezza e poi dal di lì si inizia a programmare si inizia a strutturare il proprio percorso la propria strategia ok perché come ti dicevo siamo tutti esseri umani ma ognuno di noi ha le proprie caratteristiche e ci adattiamo a strategie veramente molto diverse seguendo però sempre dei principi cioè per dire la dieta vegana porta gli stessi risultati della dieta onnivora o carnivora perché? perché ha dei principi se tu impari i principi poi crei il tuo metodo crei la tua dieta certo questo è un po' il mood direi che abbiamo detto un bel po' di cose sì assolutamente no seguitemi esatto esatto seguitelo 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 dove ti possono trovare? a Bologna no sui social un po' ovunque credo che qualsiasi social esista più o meno ci sono sempre come Ruggero fantastico Ruggero grazie mille per la chiacchierata e alla prossima ciao 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 grazie a tutti